a quanto pare questa pandemia influenzerà i rapporti sociali i nostri rapporti sociali per sempre e non mi riferisco solo alle coppie che dopo essersi fatti due mesi di quarantena a distanza adesso continuano a vedersi su skype perché hanno scoperto che è più comodo no mi riferisco a non lo so cambieranno pensiamo ad esempio a come cambierà il nostro approccio tipo al sesso occasionale cioè non lo so immagino che se prima i ragazzi uscivano col preservativo nel portafoglio adesso inizieranno a uscire con non lo so la mascherina f fp3 nel portafoglio non si sa mai che contatti avremmo stasera ma ci sono cose nelle relazioni che non cambieranno mai perché perché le relazioni sono complicate ok la vita da singolo è più semplice molto più semplice cioè il problema più grosso che puoi avere quando sei singolo è non lo so farti il bidet questo è il più grosso problema che puoi avere non lo so perché quando sei single ti fai un sacco di bidet cioè anche quando sei fidanzato non è che smetti di farteli però quando sei singola è questa cosa che devi farti il bidet anche c'è anche se esci tipo due secondi di casa perché quando sei singola è questa fissa che non si sa mai che da un momento all'altro non possa capitare il pompino fuori programma non si sa mai cioè quindi quando sei singola questa c'è anche se devi andare alle poste capito fammi stare tranquillo io mi faccio il bidet prima di andare alle poste e le relazioni invece sono complicate e ci sono cose delle relazioni soprattutto degli inizi delle relazioni che che non sono mai riuscito a capire fino in fondo c'è ad esempio questa cosa che fanno le coppie agli inizi che praticamente ai primi appuntamenti si scopa e si usa il preservativo poi dopo un top di appuntamenti si smette di usare il preservativo così all'improvviso però c'è non è che vi siete mostrati tipo le analisi a vicenda cioè no così ormai ci conosciamo si ho capito ma nel senso che sapete cosa ordina l'altro a sushi cioè ma qual è il collegamento con le malattie sessualmente trasmissibili no 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 ormai ormai ci conosciamo ormai li ho presentato anche i miei genitori si ho capito ma cioè il fatto che una persona conosca i tuoi genitori non significa che non abbia la gonorrea vi svelo questa cosa e c'è un'altra cosa molto divertente che succede agli inizi delle relazioni ed è quando quando si cerca di capire a che punto si è delle relazioni no e per le ragazze è semplice perché le ragazze lo chiedono esplicitamente cioè non si fanno problemi proprio a chiedertelo te lo chiedono direttamente ti chiedono non lo so a che punto siamo della relazione siamo ufficialmente una coppia devo smettere di scopare col mio migliore amico le ragazze te lo chiedono non si fanno problemi per gli uomini invece è più complicato perché gli uomini se lo devono come dire non possono esporsi quindi devono tipo leggerlo fra le righe devono cercare degli indizi per capire se se è una relazione seria cioè non lo so ad esempio se tipo se lei scorreggia di fronte a te è decisamente una relazione seria non ci sono cazzi credo che sia l'unico momento nella vita di una persona in cui una scorreggia è vista come qualcosa che aggiunge serietà ad un contesto lao lao